Buon compleanno amore mio, Alessio e Lavinia. Alessio, l'ormai fidanzato della bella marchesa Lavinia Mauro, ha compiuto proprio ieri 28 anni e quale motivo in più se non organizzare per lui qualcosa di straordinariamente magico? Lavinia gli ha fatto una sorpresa, ma non una semplice sorpresa, infatti per l'occasione ha vendato il ragazzo e l'ha portato in un magnifico luogo dove c'erano candele che illuminavano la sega, luci soffuse per l'atmosfera e al centro un tavolo pieno di ogni cosa e una magnifica piscina. I due innamorati hanno cenato e nel frattempo ci sono coccolate e baciati, come sono romanticoni sanno fare. Infine la torta con una scritta ironica sopra, come sa fare solo Lavinia, 28 anni di, ho ragione io, Lavinia gli ha detto, tanti auguri alla mia roccia, voglio vederti sempre pazzo, sorridente e pieno di vita, buon compleanno amore mio, ti amo, la mia cosa bella meriti il meglio e anche di più. La Lavinia gli ha detto, la mia cosa bella meriti il meglio e anche di più. Grazie a tutti.